Grazie a tutti. Il sole è l'unica fonte di calore che non ci tradisce mai. Diciamo no alle centrali nucleari. E' un problema di sviluppo, di lavoro, di energia alternativa e quindi di sviluppo alternativo. Ecco perché noi siamo qua per controinformare ma soprattutto per dare un'indicazione precisa. Non al nucleare ma sì al solare. Informiamo perché pure è dannoso per l'economia, è dannoso per il lavoro, è dannoso perché è inutile. Alla pieno regime le centrali che il governo Berlusconi vorrebbe costruire daranno al massimo il 4% dell'energia richiesta. Quindi non risolvono nessun problema, sono un potenziale pericolo, nemmeno tanto potenziale, viste i numeri che ci danno le statistiche sugli incidenti nucleari. Sono comunque un'invasione e una pressa di posizione che scavalca il potere delle regioni di programmare e soprattutto investono una quantità enorme di denaro che andrebbe invece utilizzato per energie alternative, quindi per le rinnovabili, per le energie pulite.